Cosa ci tocca sentire dal sindaco Sala? Cosa ci tocca sentire? Mamma mia, mi sono preso anche 24 ore per respirare perché veramente... Ragazzi, sta succedendo di tutto per quanto riguarda il tema stadio. Sta succedendo anche di tutto per quanto riguarda il mercato del Milan. Siamo giovedì 1 febbraio e sono le ore 12.50. Direi che sarebbe anche ora di prendere un difensore. Parleremo anche delle ultime novità che purtroppo attualmente riguardano solo il mercato dell'uscita per quanto riguarda il Milan. Per iniziare però, mi raccomando, non fatemi mancare il vostro supporto. Siamo vicini alle 2.000, anzi alle 2.000 capocce. Mancano poco più di 500 persone, quindi mi raccomando, iscrizione al canale, sempre gratuito. Offro io, like al video per far arrivare questo contenuto a quante più persone possibili. Mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando. Troppi di voi che guardano i miei video, non sono iscritti, non è giusto. Allora, ragazzi, Sindaco Sara, obiettivamente ne avevamo anche parlato in passato del danno che stava regando la città di Milano perché stava privando la città del progresso, come Milano, di un investimento pubblico da oltre 600-700 milioni per quanto riguardava lo stadio del Milan che praticamente avevamo prima cercato di farlo insieme all'Inter a San Siro, battendo San Siro, progetto di qua, progetto di là, progetto accanto, lo stadio col vecchio San Siro nell'idea delle squadre magari lasciato solo un pezzettino della curva come Mausoleo. Successivamente il Milan si era un po' rotto le palle, anche perché l'Inter tergiversava con i problemi economici di Zanga. Avevamo tentato di fare lo stadio alla Maura, negato totalmente dal comune perché era un'area verde di qua di là. Appena il Milan ha mosso passi concreti ufficiali, non quelli dell'Inter, passi concreti, delibere dell'aggiunta, il sindaco Sala si è iniziato a fare la pupù nelle mani perché, ragazzi, potrebbe passare alla storia come il sindaco che ha portato le squadre fuori da Milano. Quindi, detto questo, capite bene che la situazione è così, ha portato in comune un progetto di riqualificazione, ristrutturazione di San Siro. Peccato che, obiettivamente, il Milan ci si pulisce, sapete voi cosa, di questo progetto considerando che, come dice anche il suo parlato, il comunicato ufficiale, praticamente si dà per assodato il vincolo di anti-abbattimento del secondo anello. Quindi, capite bene che si parla di andare a creare un ulteriore anello, quindi quattro anelli, un quarto anello fatto da ristoranti, eccetera, 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 con la possibilità di ridurre i posti a sedere da 80 e passa mila a 70 mila, con una parte destinata ai VIP. Ma, ragazzi miei, rimangono sempre i problemi, oltre 2, 3, 4 milioni spesi in LED per fare lo stadio rosso-nero quando gioca il Milan, nero azzurro quando gioca l'Inter. Ragazzi, addirittura nel progetto c'erano anche i due palazzi, le due sedi delle società, uno accanto all'altro. Ma cosa siamo, amici? Ma cosa siamo, fratelli? Al di là che tra Milan e Inter c'è un enorme rispetto da un punto di vista, cioè non c'è odio, c'è solo odio sportivo, no? Non ci sono episodi, non c'è la rivalità che intercorre, per esempio, tra interisti e giuventini, però capite bene che è un progetto che fa ridere i polli. Quindi, per quanto mi riguarda, mandiamo assolutamente a fanculo il sindaco Sara, lasciamolo con il cerino in mano, ti prego, Gerry, una cosa buona falla, fai lo stadio a San Francesco, fai lo stadio a San Donato, fai lo stadio che possa essere, in qualche modo, un'unica cittadella del Milan, un mondo rosso-nero, con anche la piazza gigantesca per festeggiare eventuali successi futuri. Detto questo, ragazzi miei, purtroppo, purtroppo, andiamo qui a parlare del mercato del Milan, un mercato che ieri ha praticamente sancito due uscite, un'uscita meno importante, Pellegrino, quindi abbiamo iniziato il mercato avendo una moria di difensori, eravamo bisognosi di avere un nuovo difensore rosa al di là del rientro di gabbia, parole dette da Bioli, parole dette da Moncada, parole dette da Furlani, cediamo Pellegrino alla Salernitana. Obiettivamente, sono d'accordo, al di là di tutto, con questa cessione, a patto che possa arrivare, ovviamente, un difensore degli ultimi ore di mercato, perché, ovviamente, Pellegrino è inutile fargli fare l'adli della situazione per un anno e mezzo, se non viene visto da Bioli, se non viene ritenuto pronto dallo staff, facciamolo giocare, sono d'accordissimo nell'averlo lasciato in Italia, il Milan non ha concesso il diritto di riscatto, perché evidentemente crede che magari questo giocatore possa sbocciare nel medio-lungo termine, quindi va bene così. Per quanto riguarda, invece, l'altra cessione, mi ha lasciato un pochettino perplesso, ovvero la cessione di Ciacatro Re al Palermo, ricordiamo il Palermo del City Group, in prestito con diritto, assolutamente il Palermo voleva il diritto e vorrebbe invedere, 8 milioni più 2 di bonus, più il 25% della futura rivendita. Ragazzi, io ovviamente non sono d'accordo con questa cessione, avrei dato, sì, Ciacatro Re al Palermo, ma in prestito secco. Ritengo Ciacatro Re un ottimo giocatore, potenzialmente in futuro, non ritengo che possa diventare un fenomeno, ma può sicuramente diventare un giocatore importante, un ottimo giocatore che nelle rotazioni di una grande squadra potrebbe anche starci. Quindi, obiettivamente, questa cessione così a cuor leggero, per una squadra che non ha bisogno di soldi, per una squadra che insomma non ha bisogno di svendere soprattutto i talenti al settore giovanile, c'è va bene concedere magari un 15 milioni di diritto di riscatto sempre con la percentuale di futura rivendita, ma 8 più 2 bastano 3 gol in Serie B per valere 8 milioni, quindi obiettivamente non sono completamente d'accordo. Cioè, non lo so, mi lascio la mano in bocca questa cessione, va bene, va bene, ripeto, dall'ispazio, va bene anche perché è rientrato Caffor, anche perché magari lo staff di Pioli ritiene di aver trovato l'inghippo per quanto riguarda il problema infortuni, quindi avrebbe trovato pochissimo spazio, va bene così, però obiettivamente cederlo. Per così poco non sono completamente d'accordo. Detto questo ragazzi, ultime ore per essere smentiti, ormai vedrete questo video quasi alle 2, quindi resteranno solo poco più di 6 ore per andare a fare l'ultimo colpo di mercato, ricordiamo ancora una volta che chiuderà le ore 20, quindi non so cosa... Ieri ho sentito delle odizie che mi hanno fatto ridere, proposto prima Marlon, poi Erlich di proprietà del Sassuolo, con il Milan che obiettivamente ha accantonato la pista de Miral, ma non prendiamo in giro i tifosi una pista che non è mai iniziata, una pista magari anche lasciata passare dalla società per dar l'idea magari di una dirigenza attiva per cercare di trovare il difensore, ragazzi, non prendiamoci in giro, il difensore serve, soprattutto adesso dopo aver ceduto Pellegrino, perché ripeto, siamo Simic, Kier e Gabbia, siamo questi tre in questo momento, ciao tornerà a metà a fine febbraio, io tornerò a metà ma a regime con i 90 minuti magari a fine febbraio, inizio marzo, ed è il primo che rientra gli altri due, poi seguirà Tomori, poi seguirà Calullo a Marsino Oltrato, ma dove vogliamo andare ragazzi, dove vogliamo andare l'Europa League obiettivamente alle porte, serve un difensore centrale, io farei di tutto, di tutto, per prendere anche Cialobà, va bene Cialobà, io farei un ultimo tentativo per Kiver, devo essere sincero, proverei a prenderlo in prestito oneroso a 5 milioni, con diritto di riscatto a 18, secondo me l'Arsenal potrebbe accettare una cifra del genere, perché è quella che hanno versato per pagarlo, anche perché comunque, magari fai un prestito di un anno e mezzo, a 5-6 milioni, con un diritto di riscatto a 18, potrebbe anche starci, perché ragazzi Kiver è un gran bel prospetto, se non sbaglio è un 2000-2001, quindi sinistro di piede, discretamente rapido, soprattutto occuperebbe la casella che andiamo ormai a ricercare da un anno e mezzo, ovvero difensore di piede mancino, fatemi sapere cosa ne pensate, siete fiduciosi per l'ultimo corpo da parte della Vibora Furlane, oppure ormai avete veramente buttato i remi in barca, siete disperati e pronti ad uno sfogo, per farvi sentire anche dall'altra parte del mondo, cosa che avverrà effettivamente, perché già ieri mi sono un po' incazzato nel video, perché io quando vedo prese in giro, sono buono e caro, cerco sempre di invitare la karma, cerco sempre di trovare l'alto positivo, però effettivamente quando anche io non vedo l'alto positivo, allora c'è veramente qualcosa che non va, assolutamente voglio sapere il vostro parere, quindi tanti commenti, commenti, pollici ozzo in su, iscrizione al canale, niente, ci vediamo domani, spero con un video felice, spero con un video dove annuncieremo e parleremo delle caratteristiche del nuovo difensore, speriamo bene, dai!